Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, classico, usuale, consueto e a voi ben noto della mia libreria con un video in cui continuiamo a parlare degli aerei delle cosiddette aviazioni minori della seconda guerra mondiale. Nella fattispecie continuiamo a parlare di aerei svedesi per la precisione di questo aereo qua. Da tutti gli aerei da combattimento della seconda guerra mondiale dedicato all'Unione Sovietica e alle aviazioni minori di Angelucci e Matricardi, autentico capolavoro se vogliamo, parliamo quest'oggi, del Sub J18 del Sub 18B che è questo bimotore da bombardamento leggero e ricognizione tattica, nonché anche attacco al suolo, eccolo, eccolo qui. Questa è la versione B con i motori DB605. La versione originale, la A, questa era dotata di motori Daimler-Benz DB605 costruiti su licenza. La versione originale, che era decisamente sottopotenziata, aveva i Pratt & Whitney Twin Wasp sempre fabbricati su licenza e, come dire, decisamente carenti a livello di cavalleria perché dovevano spingere una macchina piuttosto pesante con soli 1065 cavalli. Si trattava degli aerei, scusate, dei motori che muovevano anche il caccia FFVS J22. La storia del Sub 18, sempre secondo Angelucci Matricardi, è piuttosto breve. Era un aereo concepito alla fine del 1939, nacque come ricognitore, ebbe una lunghissima gestazione ed entrò in linea come bombardiere nella svenska Flickwapnet solo nell'estate del 1944 e rimase in servizio sino al 1956 inoltrato. Venne costruito fino al 1948 e furono completati 242 esemplari complessivi di tre versioni diverse. Il progetto originale era designato L11 e fu richiesto dal governo svedese che ordinò due prototipi nel novembre 1939 e nel febbraio 1940. L'andamento del conflitto però portò ad un radicale mutamento delle richieste e i due esemplari sperimentali vennero infatti sviluppati non come ricognitori ma come bombardieri leggeri diurni e bombardieri in picchiata. Il primo prototipo volò il 19 giugno del 1942 e nonostante fosse decisamente sottopotenziato, come ho detto prima perché purtroppo i motori Pratt & Whitney, eccolo qua, questa è la versione nel disegno, nel tre viste, avete visto la versione con i Daimler-Benz costruiti su licenza. Questa in foto è la versione con i Pratt & Whitney americani sempre costruiti su licenza, eccolo qui. Dicevo questa versione purtroppo era decisamente sottopotenziata proprio a causa della scarsa potenza, insomma dalla scarsa cavalleria dei motori americani. Venne messo in produzione in due versioni diverse, la B18A da bombardamento e la S18A da ricognizione fotografica. Ripeto, questa versione con i radiali americani, ve la faccio vedere di nuovo, eccola qui, fu costruita in circa 60 esemplari che nonostante, ripeto, la carenza di cavalleria, si rivelarono piuttosto efficienti, anche se non erano sicuramente aerei esaltanti. Il Saab 18 era sorprendentemente moderno per un'industria quasi appena nata come quella svedese. Infatti aveva struttura e rivestimento interamente metallici ed aveva soluzioni aerodinamiche e strutturali piuttosto curiose. La più evidente delle quali, se vogliamo, è questa qui. Notate bene la posizione asimmetrica spostata verso sinistra del posto di pilotaggio. Una curiosità che colpisce subito, se vogliamo, di questo aereo, oltre al marcato diedro dei piani di coda. Ecco qua, vedete, notate bene la posizione della cabina di pilotaggio. Ecco qua. È la caratteristica più peculiare di questo aereo che, ripeto, era un onesto bombardiere, soprattutto in questa versione con i Daimler-Benz di B-605. Era un aereo onesto che faceva il suo dovere e volava bene. L'idea della cabina spostata a sinistra era per consentire al pilota una migliore visione verso il basso. Trattandosi di un aereo da ricognizione, da attacco e da bombardamento, sia livellato che impicchiata, non era una cattiva idea, se vogliamo. Era un aereo triposto, armato con tre mitragliatrici, una da 7,92 e due da 13,2. portava 1.500 kg di bombe, volava nella versione con i radiali a circa 460 km orari a 6.000 metri di quota. Quella con i Daimler-Benz sviluppava un 20 o 30 km orari di più, però poteva portare anche un carico di bombe maggiorato. Gli aerei della produzione iniziale entrarono in linea nel giugno del 1944, poi vennero iniziati a costruire, grazie alla licenza di produzione del Daimler-Benz di B-605, la seconda versione, la 18B. Il 10 giugno 1944, il primo prototipo della 18B con i Daimler-Benz prese il volo, registrò un netto miglioramento rispetto alla precedente versione, perché era più prestante, più veloce, più potente, finalmente aveva dei motori degni, cioè aveva dei motori con una robusta iniezione di cavalleria, se vogliamo. La produzione fu autorizzata per 120 esemplari e i primi 18B entrarono in servizio a guerra finita nel 1946. Sempre a guerra finita, però nel luglio 1945, nacque anche la versione finale di produzione, la T-18B, che era stata sviluppata inizialmente come silurante. Di questa versione della T-18 furono completati 62 esemplari, che però non vennero mai utilizzati come siluranti, ma vennero trasformati per l'attacco al suolo. L'equipaggio da tre membri era stato ridotto a due, l'armamento consisteva in due cannoni da 20 mm e da un cannone Bofors da 57 mm installato a prua in una gondola sotto la fusoliera. Insomma, un bel aereo, razionale, intelligente, veramente bello se vogliamo, perché si vede, c'è un aereo molto 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 accattivante nelle forme, come tutta la produzione svedese, anche degli anni successivi. Cioè, a parte il Tunnan, gli svedesi hanno sempre fatto degli aerei bellissimi. Siamo sinceri, i Gripen sono qualche cosa di favoloso, i Wigen sono aerei meravigliosi. E il B-18, pur non avendo mai combattuto in guerra, è secondo me un gran bel aereo, un bombardiere, un aereo brillante, un bombardiere medio-leggero di buone prestazioni, che non avrebbe sfigurato in linea con le aviazioni, tra virgolette, maggiori, con le aviazioni dei contendenti del conflitto. Insomma, signori, adesso, come sempre, di nuovo, tocca a voi, come sempre, commentate qua sotto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi immediatamente, se no vi mando a cercare da lui, vi mando a cercare dal MiG-3, quindi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi e come sempre, arrivederci al mio prossimo video, grazie di tutto e ancora, ciao!